Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6. L'amministrazione comunale di Pescara cambia idea e annuncia l'assegnazione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In programma il prossimo 27 gennaio si chiude così un caso che è diventato nazionale. Il servizio di Alfredo Primante. L'amministrazione comunale di Pescara torna sui suoi passi mettendo una pezza ad una situazione che era diventata un imbarazzante autogol politico ed immagine. Il 27 gennaio, giorno della memoria delle vittime della Shoah, il consiglio comunale del capoluogo adriatico conferirà la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Assegnandola anche all'unione delle comunità ebraiche, a tutti i sopravvissuti dei campi di concentramento e alla brigata ebraica. L'annuncio è arrivato dal sindaco di Pescara Carlo Masci nel presentare l'ordine del giorno predisposto dalla maggioranza di centrodestra. Il primo cittadino ha parlato di un percorso già avviato da tempo e di rapporto fortissimo con le comunità ebraiche, definendo vergognose e strumentali le polemiche dei giorni scorsi. Polemiche che però erano nate proprio dal no del centrodestra alla mozione presentata dalla minoranza di centrosinistra, subito dopo l'assegnazione della scorta alla Segre minacciata di morte. Un no motivato da Masci e dal capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Vincenzo Dincecco con i legami inesistenti tra la Segre e la città di Pescara. Motivazione palesemente inconsistente, visto che poi le cose sono cambiate, anche perché sul caso Pescara, nel frattempo diventato caso nazionale, erano arrivati distingue eccellenti, a partire da quelli del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e della stessa Lega, allorquando il capitano Salvini si era detto solidale con la senatrice a vita. Senza tema di smentita, dunque, il no di qualche giorno fa è stata una sciocchezza, anche perché altri comuni abruzzesi hanno voluto marcare la differenza, non scivolando sulla stessa buccia di banana ed annunciando, anzi, la propria volontà di assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. 89 anni, sopravvissuta ad Auschwitz e per questo è diventata simbolo e testimone della foglia nazista e della lotta all'antisemitismo. Un vecchio proverbio dice che prima di parlare si dovrebbe contare fino a 10. Forse a Pescara qualcuno non l'ha rispettato questo proverbio, ma per il pentimento si sa, c'è sempre tempo. E ora la pagina di cronaca. Una 29enne romena ha perso la vita ieri sera sulla statale 650 Fondovalle del Trigno, falciata sul cilio della strada, tra il bivio per lentella e fresa grandinaria. La donna, scesa dal lato passeggeri, è stata investita da una Fiat 600 condotta da un 67enne. Il servizio di Manuela Iorio. Sarà disposta l'autopsia sulla donna di 29 anni che ieri sera è morta in seguito a un tragico incidente che si è verificato sulla Trignina in territorio abruzzese. Il corpo si trova al momento all'ospedale di Chieti a disposizione della magistratura. Da accertare ancora la dinamica dell'incidente che si è verificato all'altezza di Lentelle, in un tratto rettilineo dove la donna di nazionalità romena ma residente a Vasto è stata investita da una Fiat 600 che si dirigeva verso Isernia e guidata da un ragazzo di 36 anni. Sulla zona era già buio e l'impatto è stato violentissimo. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Sul posto i carabinieri, la polizia stradale insieme all'ambulanza del 118. Ai militari il compito di ricostruire la dinamica e capire il motivo per cui la donna si trovasse a piedi in quel punto sulla statale. Sembra che fosse scesa da un furgone, un Fiat Ducato guidato da un conoscente di 65 anni. Il traffico ha subito forti rallentamenti con lunghe code di mezzi in attesa. La statale è stata anche chiusa al traffico per permettere i rilievi. Continuano i processi alla banda di romeni autori dell'assalto alla villa dei coniugi Martelli. Questa mattina nel Tribunale di Lanciano è stata celebrata l'udienza relativa ai furti con spaccata nei bar Frentani dell'estate 2018. Vediamo. E' stata rinviata a metà dicembre l'udienza per il processo alla banda di romeni che prima dell'assalto alla villa dei coniugi Martelli compì una serie di furti con spaccata ai bar di Lanciano e del comprensorio. Sei i colpi messi a segno nell'estate del 2018, l'ultimo pochi giorni prima dell'assalto alla villa del medico in pensione. Le spaccate al bar Iconicella e al bar Manhattan di Lanciano, a Leni Caffè di Santa Maria in Baro e alla villa Elce a Lanciano, al bar Elisa sempre a Lanciano e al bar sotto i portici a Castelfrentano. I Turlica e Ghivizio hanno confessato almeno quattro dei furti contestati. Furono proprio due fratelli ad iniziare la serie assieme al cugino Aurer Ruset e ad Alexandru Colteanu. Solo in seguito si sarebbero aggregati Bogdan Ghivizio e Marius Martin. I difensori dei Turlica e di Ghivizio hanno chiesto il rito abbreviato, gli altri quell'ordinario. L'udienza è stata rinviata perché mancava la nomina di un avvocato da parte di Colteanu. Il bar Manhattan si è costituito parte civile. Botta e risposta tra il sindaco di Giulianova Costantini e gli inquilini del cosiddetto condominio solidale. Il primo cittadino ha deciso che l'emergenza abitativa non può essere rinnovata e che gli alloggi popolari dovranno essere abbandonati. Il servizio di Giuseppe Dintino. Anche per noi è umiliante, non è che è una cosa bella andare in televisione e dire i fatti propri. Anche noi abbiamo una dignità. E' sotto sfratto il cosiddetto condominio solidale di Giulianova. L'esperienza nacque sei anni fa quando undici persone, compresi bambini, anziani e malati gravi, ricevettero un alloggio popolare. Io non voglio la guerra perché la guerra non ci porta da nessuna parte, però vorrei solamente che lui si mettesse una mano sulla coscienza perché noi veramente siamo disperati. Lui ci ha preso come degli approfittatori, invece noi siamo semplicemente delle persone bisognose. Noi per mangiare andiamo alla Caritas, insomma la gente ci aiuta in questo modo. Perché ci vuole mettere Giulianova contro? Per fortuna che non siamo soli, in quanto il gruppo anarchici ci è vicino. Inizialmente gli alloggi sarebbero dovuti essere sgomberati entro fine ottobre, poi entro il 10 novembre, ma in quella data non è accaduto nulla. Per leggi uno sfratto deve essere comunicato agli inquilini con almeno sei mesi di preavviso, ma la delibera è giunta al condominio solidale solo due mesi fa. E buferra sul sindaco Costantini, secondo cui l'emergenza abitativa non può essere prorogata. Noi abbiamo fatto presente che l'emergenza abitativa deve essere un'emergenza e non può diventare una consuetudine. Sono sei anni che queste persone sono all'interno di quegli alloggi. Ai nostri microfoni però assicura agli inquilini che non saranno sfrattati fino a fine anno. Abbiamo detto che fino a fine anno noi non daremo problematica. Il Comune ha deciso di intraprendere comunque delle iniziative a favore di queste persone, con l'Unione dei Comuni che va a elargire una somma, c'è il reddito cittadinanza. Queste sono persone che a fine mese comunque riescono ad arrivare a delle cifre di 6, 700, 800 euro e non possiamo più pensare, noi abbiamo dato tempo tre mesi, non possiamo più pensare che diventi una consuetudine non rintegrarsi all'interno della società. Noi non ce lo possiamo permettere. Secondo gli inquilini però il sindaco non conosce davvero le loro condizioni. Quando quindi esprime giudizi sul loro reddito lo fa mentendo. Sa che siamo cittadini italiani? La reddito di cittadinanza dal primo novembre non mi pagano più. L'hanno tolto. L'Inps non ti risponda, non dicono perché. Calfo non ti dicono niente. Quindi se a lei lo sfrattassero oggi che farebbe? Niente, devo andare avanti a casa qua perché ecco tutto quel capitale che ce l'ho in tasca. Cambiamo nuovamente pagina. Il gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia assieme al deputato Maria Teresa Bellucci ha presentato una proposta di legge per contrastare le dipendenze sia da gioco d'azzardo che da droga e tabacco. Vediamo. Abruzzo libero dalle dipendenze. E' questo lo slogan scelto dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia per promuovere la proposta di legge che introduce interventi per la prevenzione e la tutela della salute dalle dipendenze da droga, alcol, fumo e gioco d'azzardo. Testa introduce le novità che deriveranno dall'eventuale applicazione della norma e apre al confronto politico. Quindi noi per la prima volta presenteremo questo progetto di legge che poi in commissione potrà essere emendato, migliorato, troverà sicuramente il confronto con i portatori di interesse perché vogliamo predisporre una legge definitiva che vada a mettere al centro della propria attenzione e proprio interesse la persona e la salute pubblica. L'onorevole Bellucci entra nel dettaglio del provvedimento e spiega gli strumenti che si intende utilizzare per contrastare le dipendenze. C'è innanzitutto l'idea di creare un osservatorio, quindi un punto per fare un'analisi della situazione delle dipendenze in Abruzzo, c'è l'intenzione di poter supportare i servizi, gli operatori che si occupano dei dipendenze sia del pubblico che del privato sociale che in questi anni hanno fatto sicuramente tanto per cercare di aiutare le persone a liberarsi dalle dipendenze. C'è la volontà di aiutare gli esercenti, quelli più etici che propongono un'impresa etica dove comunque cercano di andare avanti in Abruzzo senza l'utilizzo magari delle slot machine ma proponendo comunque un servizio puntuare della città. C'è la voglia e l'intenzione anche di liberare l'Abruzzo dalla problematica del tabaggismo, sappiamo che è la prima mortalità e anche per questo quindi si danno servizi, opportunità e anche indicazioni in maniera tale che nei luoghi pubblici si è escluso l'utilizzo del fumo. Uniformare l'offerta assistenziale a quanto stabilito dalla normativa nazionale sui LEA così da riordinare l'area delle dipendenze patologiche e ridurre anche la mobilità passiva verso altre regioni. La Giunta regionale ha approvato la delibera che fissa le linee metodologiche e normative in materia. Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro coordinato dall'Agenzia Sanitaria Regionale di cui hanno fatto parte rappresentanti delle ASLE del Dipartimento Regionale Sanità. Il provvedimento recepisce i principi indicati dalla normativa di riferimento secondo cui il paziente deve trovare per quanto possibile il proprio percorso di cura all'interno del suo territorio. Su questa base vanno costruiti modelli organizzativi che consentono di recuperare quote importanti di spesa per servizi attualmente acquistati fuori regione. Illustrati questa mattina a Chieti dall'amministrazione comunale i dati sulla qualità del servizio di trasporto pubblico locale in base al rapporto di Arco Consumatori che promuove il trasporto effettuato dalla Panoramica. Il servizio di Paolo Renzetti. Chieti promossa da Arco per quanto concerne il trasporto urbano un giudizio positivo da parte dell'Associazione Consumatori. Già avete visto che tutta la nostra azione è stata quella anche di un rinnovamento del parco per il trasporto pubblico con mezzi ecologici sicuramente all'avanguardia. L'iniziativa di Arco è sicuramente un'iniziativa positiva perché confrontarsi su quelle che sono le esigenze dei cittadini sicuramente crea una positività e un miglioramento al servizio. Sentire un cittadino che dice male al servizio non deve essere negativo, però il motivo perché dice male è perché sicuramente c'è una motivazione che gli fa dire quello. Per cui dobbiamo andare a migliorarci anche sui fattori negativi. Il sondaggio, i quesiti sono stati abbastanza dettagliati da parte dell'Arco. Io so che il campione è stato fatto su 150 cittadini di diversa fascia d'età e il giudizio finale sicuramente ci ripaga sia della volontà di mantenere un servizio qualitativo a Chiti e ripaga sicuramente la panoramica che si è dimostrata in questi in tanti anni un'azienda preparata e qualitativa sul territorio. Qualcosa da migliorare sicuramente, intanto per quanto riguarda la questione delle strisce pedonali che ancora stanno davanti alla fermata degli autobus quando invece devono stare dietro e questa è una cosa importante perché le persone che scendono hanno il problema della sicurezza perché non si vede, non c'è visibilità. Poi c'è un problema sulla comunicazione, c'è bisogno di una maggiore qualità della comunicazione anche sugli autobus rispetto a dove sono i biglietti, dove si comprano i biglietti, dove le regole fondamentali e per quanto riguarda invece gli orari, le altre cose diciamo che va molto bene. Anche dalle interviste che noi abbiamo fatto, abbiamo fatto 150 interviste agli utenti alle fermate e il risultato è che il 97% è espresso parere positivo. La data ultima per la sopravvivenza dell'Ama, la società di trasporto aquilano, è fissata al prossimo venerdì. Se il Consiglio Comunale non passerà la ricapitalizzazione, l'azienda andrà in liquidazione. Il servizio è di Daniela Rosone. Ultima chiamata per salvare l'Ama, l'azienda del trasporto pubblico locale. Se il Consiglio Comunale di venerdì non approverà la delibera di ricapitalizzazione da 1.300.000 euro con piano di risanamento annesso, l'azienda sarà messa in liquidazione. Lo ha detto chiaramente anche la Presidente del Collegio Sindacale in Commissione. L'azienda non ha più risorse, serve un piano di risanamento che prevede da un lato sacrifici per i lavoratori, ma l'alternativa per lei è la liquidazione della società, che sarebbe pure imminente. La delibera portata in giunta prevede 1.300.000 euro per salvare l'azienda, azzerando però la contrattazione di secondo livello a partire dal 1 gennaio 2020. Un taglio di circa 800.000 euro sulle retribuzioni dei 130 lavoratori, che in media prevede almeno 300 euro in meno sullo stipendio. Una questione che più volte è stata contestata dall'assessore ai trasporti Carla Mannetti, che non vuole mettere le mani in tasca ai lavoratori. Tensioni emerse anche in Commissione. La giunta si è presentata spaccata. Da una parte l'assessore Bergamotto, che ha ereditato una situazione difficile, dall'altra l'assessore Mannetti, che con i lavoratori aveva preso precisi impegni. L'AMA, lo ricordiamo, ha chiuso gli ultimi tre esercizi con perdite per oltre 2 milioni di euro. Ad ottobre 2018 il Comune ci mise una pezza con 900.000 euro. Alla fine del settembre scorso poi il Consiglio ha dato il via all'addendo un contrattuale al contratto di servizio. Contratto di servizio integrato per 2.200.000 euro. Per il 2019 il 1.200.000 è stato riconosciuto con una variazione di bilancio, ma ciò non è servito per risolvere il problema e dunque l'azienda chiuderà il bilancio 2019 ancora una volta in perdita. La legge impone di risanare l'azienda entro tre anni. L'AMA però dovrebbe tornare in pari per il 2020. Una situazione molto difficile. I lavoratori, giustamente preoccupati, erano presenti in Commissione. Si vedrà ora cosa succederà venerdì in sede di Consiglio. L'ultima chiamata. Si svolgerà sabato 30 novembre al Teatro Comunale di Teramo la giornata conclusiva del Premio Nazionale Borsellino. A ricevere un importante riconoscimento saranno tra gli altri PIF e la giornalista Floriana Bulfon, autrice di un libro sui Casa Monica, il servizio di Tania Bonici Castelli. Giornata conclusiva del Premio Nazionale Paolo Borsellino al Teatro Comunale di Teramo il 30 novembre prossimo. Ospite d'onore PIF che racconterà del suo famoso film La mafia uccide solo d'estate. Con lui saranno premiate due dirigenti scolastiche e due associazioni onlus come Il sogno di Iaia e prossimità alle istituzioni. Quest'ultima in particolare si occupa di togliere dalla strada i bambini pescaresi dei quartieri malfamati per offrire loro alternative culturali. Un premio anche alla giornalista Floriana Bulfon, autrice del libro sui Casa Monica. Come si svolgerà questa serata conclusiva e chi sarà premiato? Questa sarà la seconda cerimonia del Premio Nazionale Paolo Borsellino qui a Teramo fortemente voluta dall'amministrazione comunale. Sarà una cerimonia molto bella, emozionante sicuramente come quella di Pescara che si è svolta qualche giorno fa. Diversi premiati tra cui due dirigenti scolastiche del territorio terramano, due onlus importanti che sono Il sogno di Iaia e prossimità alle istituzioni. Luciano Costantini, magistrato che accanto a Paolo Borsellino in quel di Marsala ha lottato contro la mafia che continua comunque a farlo portando le idee che erano di questo giudice del pull antimafia nelle scuole d'Italia. Il Premio Nazionale Paolo Borsellino è stato istituito nel 1992 dalla volontà del giudice Antonino Caponetto, invitato a Teramo pochi mesi dopo l'uccisione di Borsellino in via d'Amelio dall'Associazione Società Civile per un incontro con gli studenti al Teatro Cittadino. Dopo oltre dieci anni di assenza la giornata conclusiva torna a svolgersi proprio a Teramo. Voi avete creato proprio una delega alla legalità. Sì, assolutamente una delega alla legalità che esiste nella giunta d'Alberto e che è in stretta connessione con la delega alla cultura, quindi nel collaborare sia con la Presidenza del Consiglio come dicevo che con l'assessore Falini abbiamo intenzione di continuare questo percorso su questa tematica perché lo riteniamo di assoluta importanza, lo ha ribadito il Sindaco, a volte purtroppo il silenzio su queste tematiche fa sì che crescano determinati percorsi negativi, invece il nostro obiettivo deve essere quello di riportare alla luce quelli che sono dei percorsi virtuosi, di educare i giovani alla legalità e farlo ricordando delle figure di primaria importanza come sono stati Falcone e Borsellino. Il premio nazionale Borsellino è ritenuto oggi il più importante evento italiano sui temi della legalità. Apriamo ora la pagina dello sport, lo facciamo con la Serie B, appena 20 giorni fa il Pescara toccava il punto più basso della sua stagione con la sconfitta casalinga con lo Spezia, da allora i Biancazzorri hanno cambiato marcia e oltre ai risultati, tre vittorie in quattro partite c'è anche il bel gioco, vediamo il servizio. Pescara alla sosta col miglior attacco del campionato è in piena salute, appena 20 giorni fa sul Delfino spiravano venti di crisi, la panchina di Zauri traballava nonostante le rassicurazioni del presidente Sebastiani e la squadra sembrava lontana dall'avere una identità di gioco. Nel momento di massima difficoltà, dopo la sconfitta con lo Spezia, è scoccata la scintilla. Due gli aspetti principali, uno riguardante l'atteggiamento, l'altro sul piano tattico. Di confronti ce ne saranno stati tanti da inizio stagione, ma la sensazione è che quel faccia a faccia, post Spezia, sul campo del Poggio alla ripresa di quella settimana di allenamenti abbia contribuito a tirare fuori qualcosa dalla squadra. Sul piano tattico, Zauri e il suo staff hanno trovato la quadra con il cosiddetto albero di Natale, un 4-3-2-1, che ha trovato nel Baby Borrelli il totem su cui la squadra si appoggia ed ha liberato le giocate dei due calciatori di maggior talento, Macin e Galano, che sono anche i migliori marcatori stagionali. Il Robben delle Puglie ha griffato la settima rete in campionato ad Empoli e se continua con questo ritmo potrà addirittura superare le 20 reti di gran lunga il massimo in carriera. Macin, più vicino all'area non solo da il massimo, ma gratificato dalla nuova posizione in campo, è anche disposto a sacrificarsi di più in fase di ripiegamento, avendo peraltro alle spalle i tre interni di centrocampo. Scognamiglio e Bettella hanno rispolverato l'intesa della scorsa stagione e il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta si è finalmente lasciato alle spalle il problema di inizio stagione. Ad Empoli in Coppa riportò quella botta al piede che ne ha condizionato l'inizio di campionato e proprio ad Empoli, in campionato, Bettella ha segnato il suo primo gol stagionale. Ora due settimane che saranno utili a Crecco, debutto stagionale positivo a Castellani, per mettere altra benzina nelle sue gambe e a Busellato per iniziare la fase di recupero dall'infortunio pre-Empoli. L'ex cittadella comunque non ci sarà con la cremonese. Zauri, solo nella prossima settimana però, potrà lavorare al completo, visto che in questi giorni sarà privo dei sei nazionali. Memusciai con l'Albania e Cassanos con il Cipro affronteranno le gare di qualificazione agli europei. Quelle di qualificazione alla Coppa d'Africa attendono Macin, chiamato dalla Guinea Equatoriale. Impegni con le Under 21 per Bettella, con l'Italia, e Ingelson con la Svezia sono le qualificazioni per l'europeo di categoria. Per Borrelli, prima convocazione con la Nazionale Under 20. E ora la Serie C, lo stop di domenica col Picerno interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive in campionato per un Teramo che adesso affronterà un ciclo terribile ricco di scontri con le grandi del Girone. Servirà una fase difensiva migliore già da domenica contro la Ternana al Bonoris, il servizio di Jacopo Forcella. La sconfitta col Picerno per il Teramo apre il ciclo di scontri diretti con le big del Girone C. Quello di Potenza è stato uno stop che poteva anche starci nel cammino di crescita della formazione di Bruno Tedino, il modo con cui è arrivato però decisamente meno. A lasciare qualche perplessità è la tenuta difensiva del Diavolo, mai davvero messo in grosse ambasce dagli avversari recenti, Casertana a parte, è che nello stress test del Viviani ha palesato di nuovo limiti evidenti nella fase di non possesso. Non è un fatto di uomini certo, ovviamente ritrovare il soprano a distanza di tre mesi darà una mano, ma non basterà solo il reinserimento dell'ex fermano. Squadra, quella biancorossa che predilige avere in mano il gioco ma che dovrà presto imparare a contenere quello altrui, se è vero che da qui al 22 dicembre affronterà il ciclo terribile con Ternana, Bari, Regina, Vibonese, Catania e Catanzaro prima della pausa natalizia. Impensabile che queste formazioni giocheranno sperando di speculare sul risultato, specie quando il Teramo le affronterà in trasferta. E allora vanno varate delle contromisure che non per forza dovranno richiedere un cambio di modulo. Probabilmente basterà un cambio di mentalità, magari più a corta quando il pallone lo avranno gli altri. Partendo proprio dalle fere rosso-verdi, squadra che viaggia alla media di due punti a partita e che ha ritrovato la vena realizzativa di Guido Marilungo nel successo interno con la Paganese, rifinito poi dal 2-0 di Alexis Ferrante. Sarà una gara particolare per due ex come Mattia Proietti e Alessandro Celli, ma un impegno che vedrà anche il pubblico delle grandi occasioni, almeno tre i pullman che dall'Umbria dovrebbero raggiungere l'Abruzzo, oltre 900 i posti potenzialmente a disposizione della tifoseria ospite. Dato che però sarà ufficializzato dal Gosse che si riunirà in settimana, considerando anche che si tratta di una gara a rischio, visto il gemellaggio tra i tifosi del Teramo e quelli del Perugia, rivali di quelli rosso-verdi. Probabile che Domenica Magnaghi, impiegato part-time col Picerno dopo una settimana contrassegnata dalla febbre, possa tornare dal primo minuto al posto di Cianci con Mungo e Bombaggi alle sue spalle. Dietro sarà squalificato Cancellotti, era in diffida e ha subito il giallo col Picerno e per forze di cose. A destra giocherà Florio con Tentardini dalla parte opposta, in mezzo Cristini e Piacentini, mentre i maggiori dubbi saranno certamente nella zona nevralgica del campo. La zona che ha fatto finora le fortune del diavolo e che potrà essere il lago che farà pendere la bilancia dalla parte bianco-rossa se oltre ai gol garantirà un filtro adeguato contro le grandi del torneo. 14 d'Aspo sono stati emessi dalla questura di Teramo per gli scontri avvenuti lo scorso 5 maggio tra i tifosi del Real Giulianova e quelli del Cesena. In occasione della gara dell'ultima giornata di campionato che diede la promozione ai romagnoli e la salvezza ai giallorossi secondo la ricostruzione degli uomini della Digos di Teramo, diretta dal vicequestore aggiunto Benedetti in Piazza Belvedere, quel giorno si sarebbe scatenata una rissa tra tifosi locali e cesenati, arrivando anche allo scontro fisico, colpendosi violentemente con calci, pugni ed oggetti vari e anche con lancio di fumogeni. Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha consentito di calmare gli animi. Le successive indagini svolte in collaborazione con la questura di Forlì e della stazione dei carabinieri di Giulianova hanno portato all'identificazione di numerosi partecipanti alla rissa. Denunciati all'autorità giudiziaria 9 tifosi di Giulianova e 5 del Cesena, di età compresa tra i 28 e i 50 anni, peraltro non nuovi a reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. A seguito di tali fatti sono stati emessi dal questore di Teramo, Enrico De Simone, predisposti dalla divisione anticrimine, i divieti di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 5 anni. Cambiamo ora a disciplina il keniano Julius Rono tra gli uomini e la burundese Cavalin Nahimana tra le donne. Si sono aggiudicati l'edizione 2019 della Corsa di San Martino di Controguerra in provincia di Teramo. Anche quest'anno numeri importanti per la gara podistica è giunta alla ventitresima edizione che ha contato su 3.400 iscritti di cui 1.100 alla prova competitiva di 15 chilometri. Vediamo. Raffaele Traini i numeri sono sempre molto molto alti ma al di là dei numeri ciò che davvero incuriosisce è la continuità nei numeri perché vi siete attestati a livelli altissimi da tanti anni ormai nel periodo in cui il podismo sta scendendo a livello di numeri. Quindi questo vale doppio. Si è vero questo probabilmente è un merito che ci prendiamo perché effettivamente la Corsa di San Martino ha sempre mantenuto più o meno un certo numero di partecipanti sia per quanto riguarda la competitiva e ancor più sulla non competitiva che ogni anno cresce di più. Questo ci fa piacere significa che la gara piace che l'organizzazione probabilmente è quella giusta. Certo c'è sempre da migliorare perché non si riesce mai ad arrivare al top è quello che si desidera. Però insomma questo ci fa molta soddisfazione il fatto che comunque la partecipazione è sempre così massiccia. Anche quest'oggi che abbiamo più di 1100 partecipanti alla competitiva. Io quest'anno vi ho definito i tre visionari cioè Raffaele, Mauro Scarpantonio, Alberto Pompili. In realtà sono molti di più i collaboratori no? Ma visionari perché tanti anni fa siete andati oltre quello che si poteva immaginare. Guarda io ricordo un'intervista che mi hai fatto tu stesso in una giornata piovosa era il 2004. La ricordo benissimo, pioggia incredibile. Anania Dilvinse in quell'edizione e in quell'edizione tu mi dicesti guarda nonostante la pioggia sono venuti a correre 600 persone e era qualcosa di incredibile, è vero perché fu una giornata terribile e fino a quando potete crescere io ti dissi guarda credo più di questo non possiamo fare e invece poi ci siamo dovuti smentire perché effettivamente è una gara che è andata sempre increscendo, un po' in tutto anche nell'organizzazione, ci siamo un po' migliorati anche nel tempo. Poi quest'anno avete attrezzato anche una gara molto bella perché più equilibrata a livello di partecipanti, quindi più spettacolare per il pubblico. Sì, sì, sì. Anche perché la parte anche della gara non competitiva abbiamo creato due percorsi che rappresentano un po' il nostro vanto perché si attraversano le colline della valvivata che sono bellissime, quindi questo è un po' un'aggiunta anche alla parte tecnica della gara che è questa mangiolonga che un po' ci rappresenta pure. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione Pro Teramo alle ore 21, trasmissione sulla Serie C e in particolare sul Teramo curata e condotta da Jacopo Forcella, ospite sarà l'allenatore del Teramo Bruno Tedino. Invece il TG6 torna con le prossime edizioni alle ore 19, alle ore 23. Grazie per averci scelto.